Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi. La nostra vita è un viaggio prezioso, una strada che percorriamo con la speranza di raggiungere la felicità e la realizzazione personale. Durante questo cammino, incontriamo diverse persone, alcune delle quali avranno un impatto positivo sulle nostre vite, mentre altre potrebbero rivelarsi nocive e tossiche. Riconoscere e affrontare le relazioni negative è un atto di coraggio e di autostima. In alcuni casi, può essere necessario allontanarsi da individui che ci influenzano negativamente, che ci sminuiscono o che ci provocano sofferenza emotiva. Non è un gesto di odio, ma una dimostrazione di rispetto e cura di se stessi. Prima di tutto, dobbiamo capire che l'eliminazione di persone nocive dalla nostra vita è una forma di autodifesa psicologica e emotiva. Le energie negative possono trascinarci verso il basso, minare la nostra autostima e causarci ansia e stress. In un mondo già complicato, avere intorno persone tossiche può influenzare negativamente il nostro benessere complessivo. L'amore e il rispetto per se stessi sono fondamentali per una vita equilibrata e appagante. Quando ci troviamo in relazioni dannose, dobbiamo prendere atto della situazione e fare le scelte necessarie per proteggere la nostra salute mentale e il nostro equilibrio emotivo. Eliminare le persone tossiche non significa che non ci importi di loro come esseri umani, piuttosto, riconosciamo che ciò che ci circonda ha un impatto significativo sulla nostra felicità e sul nostro benessere. È essenziale sottolineare che mettere dei confini sani e allontanarsi da persone tossiche è un atto di autoconservazione, non un gesto di vendetta o rancore. È possibile farlo con grazia e maturità, comunicando chiaramente i propri sentimenti e decisioni, ma senza cedere alla negatività. Dobbiamo accettare che alcune persone non possono o non vogliono cambiare il loro comportamento, e ciò non è colpa nostra. Spesso, allontanarsi da persone nocive può aprirci le porte per nuove opportunità e nuove relazioni che ci aiutano a crescere come individui e ad essere la migliore versione di noi stessi. Avere rispetto per se stessi significa prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, circondandosi di persone che ci supportano, ci incoraggiano e ci fanno sentire amati. In conclusione, non c'è nulla di sbagliato nel voler eliminare persone nocive dalla nostra vita. È un segno di maturità, di amore e rispetto per se stessi. Non dobbiamo permettere a individui tossici di definire il nostro valore o di influenzare negativamente il nostro percorso. Prendiamoci cura di noi stessi, delle nostre emozioni e della nostra felicità, e scegliamo di avere intorno persone che ci rendano migliori e ci ispirino a crescere e prosperare.